Marciana Marina ha ospitato nella serata del 31 agosto una tappa del Summer Tour così speciale del cantatore Diodato. Una serata davvero speciale per il paese, con una piazza gremita all'inverosimile ad assistere a un concerto tra i più apprezzati, con artisti di altissimo livello. Alta qualità interpretativa e musicale non poteva essere diversamente. Diodato e la sua orchestra hanno appassionato, coinvolto e entusiasmato. Siamo molto orgogliosi di averlo scelto, lo risceglieremo mille volte, dicono dal direttivo della Proloco di Marciana Marina. È stato emozionante e pertanto inapricevole scoperta, come anche la sua persona. Uno spettacolo di grande respiro, l'artista e la produzione hanno fatto di tutto per trovare un vestito su misura per Marciana Marina, per adattare lo spettacolo al nostro palco. E il concerto del 31 agosto ha superato tutte le aspettative, quasi una performance teatrale, con una grande sintonia tra gli artisti e il pubblico e la bella sensazione di potersi incontrare di nuovo, per dirla con Diodato. Un'ora e mezzo di concerto, di grande musica, intenso feeling dai brani dell'album ai più conosciuti che la piazza ha cantato ed accompagnato. Mi piace molto Marciana Marina. Si sta bene qui, ha detto dal palco. Mi sa che mi tratterrò qualche altro giorno. Tra l'Elba e Diodato è stato amore a prima vista, o almeno ci piace pensare così.